Ma Sergio lo sa! Ma Sergio lo sa! Sergio? Che cos'è imbarazzante? Imbarazzante? Ma proprio imbarazzante! Passate! Vabbè è facile, è quando tu vuoi fare una sorpresa a tua nonna e gli entri all'improvviso dentro casa ma la trovi a letto insieme a tuo nonno, ecco, quello è imbarazzante! Grazie! No prego, era facile! Sarà un modello nuovo! Ma Sergio lo sa! Ma Sergio lo sa! Grazie! 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 Grazie!